Scegli un giardino e assapora la vita. Nell'ambito dell'operazione Verum et Oleum, a tutela della produzione nazionale di olio extravergine d'oliva, sono stati svolti 183 controlli dal Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza e dall'Ispettorato Centrale Qualità e Repressione Frodi del Ministero delle Politiche Agricole. Nello specifico, le attività sono state indirizzate verso operatori del settore oleario presenti in tutto il territorio nazionale e verso i principali porti di ingresso delle materie prime di provenienza estera. Dopo una fase preliminare, caratterizzata dall'accurato esame delle banche dati e delle altre informazioni disponibili e finalizzata a calibrare gli interventi in presenza di concreti indicatori di rischio, sono partite le ispezioni congiunte nei siti di produzione e di ingresso delle materie prime utilizzate. Il 27,2% dei campioni prelevati è risultato irregolare. Per complessivi, 2.300.000 litri di olio non conformi alla normativa comunitaria nazionale. Dei 102 campioni prelevati e sottoposti ad analisi, 25 sono risultati irregolari per olio qualificato come extravergine d'oliva, ma in realtà rilevato dalle analisi come vergine. In conseguenza di ciò, 10 persone sono state denunciate alle competenti procure della Repubblica e sottoposte ad indagini preliminari per l'ipotesi di reato di frode in commercio. Inoltre, nel corso delle ispezioni, sono state contestate 33 violazioni amministrative relative alla tenuta dei registri, alla compilazione della documentazione obbligatoria e dal mantenimento del requisito di tracciabilità per un importo complessivo di oltre 10 milioni di euro destinati al gettito erariale. Sono state combinate 5 diffide ad adempiere alle disposizioni delle autorità per la regolarizzazione e sono stati eseguiti 5 sequestri amministrativi per un valore complessivo di oltre 170.000 euro.